Un saluto dall'ETG della mobilità, ANAS ha presentato un piano di riqualificazione della pontina, investimento complessivo da 137 milioni di euro, tra gli obiettivi aumentare i livelli di sicurezza, ridurre i tempi di percorrenza, ammodernare le dotazioni tecnologiche. Il piano è suddiviso in due fasi, nella prima è stata data la priorità agli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione nei punti principali, tra gli interventi in corso quelli sulla manutenzione degli impianti di illuminazione, quelli per il rinnovamento della segnaletica e per la manutenzione di ponti e viadotti presenti lungo la statale.